Non esiste una Pasqua che non sia preceduta dal Venerdì Santo e non sia preceduta dalla passione del Signore Gesù, che non è da considerare solo in senso dolorifico, c'è stato evidentemente un dolore effettivo nella persona di Gesù che era veramente uomo, ma soprattutto significa una vita che è donata agli altri. Ne abbiamo avuto anche un esempio che è un esempio concreto di quel tenente colonnello in Francia che ha dato la vita e si è sostituito a una persona che è stata liberata e lui è entrato al posto suo. Questo è un esempio concreto probabilmente anche sostenuto dalla fede o comunque da una forte dimensione umana, ma il vero senso del Venerdì è una vita donata, cioè una persona, il Signore Gesù, che ritiene la nostra vita, la nostra salvezza dal peccato, dalla morte, da ogni forma di schiavitù, la nostra salvezza più importante della sua esistenza. Ecco perché il Signore Dio, Padre, poi garantisce questa sua donazione totale con la risurrezione, che vuol dire una vita per sempre, lui è il vivente, però non si arriva alla Pasqua senza passare per il Venerdì Santo.